Mettiamo in un mini-peamer menta, basilico, mandorle, sale e olio per ottenere una salsa fluida. Amalgamiamo il couscous con l'albume e i semi di sesamo. Spalmiamo a forma di cerchio. Cuociamo a 170 gradi per circa 10-12 minuti. Serviamo carta delle insalate e ricetta vivace, i germogli, le cialde e gli spicchi di mandarino. Provatelo con questo gustoso pancake alla ricotta ed erbette.